Ciao a tutti, sono Paolo Chirafisi, vengo da Roma e sto per terminare il mio anno di Masterclass, cui mi sono iscritto nello scorso anno, se non sbaglio l'11 dicembre dove ho frequentato i 10 giorni di Mastermind gratuiti, con moltissima soddisfazione, una decisione che ho preso tra ragione e sentimento, se si volesse parafrasare un vecchio libro, e di cui sono felicissimo, ringrazio tantissimo Mattia Di Tommaso e tutta la scuola di Europrogettazione per l'opportunità che mi ha dato, ecco è scattato nella mia mente questo click, un click che si chiama opportunità, questo click inizialmente era solo mentale, ma poi è diventato un click pratico, cioè io ho schiacciato il bottone submit, che vuol dire inviare un progetto a Bruxelles, e l'ho schiacciato per ben due volte, a maggio e a novembre, cioè io sono stato in grado in pochi mesi, ovviamente supportato dai tutor, di presentare, scrivere e presentare due progetti a Bruxelles, di cui, attendo l'esito, ma qualunque sia l'esito di questi progetti, ho deciso che questo sarà per me un percorso che continuerò, perché mi piace, mi entusiasma, c'è possibilità di viaggiare, conoscere persone, imparare continuamente, per esempio l'educazione non formale, la theory of change, la capacità di focusing sugli obiettivi, lavorare in team, ma anche scrivere da solo, per cui c'è tanta ricerca, tanto studio, tanta dinamicità, ed è un qualcosa che io non voglio lasciarmi scappare, infatti sono salito su questo treno, non so quello che farete voi, ma me lo consiglio.